Rompere il concetto tradizionale di spazio, uscire dal palco e mescolarsi alle persone. La danza è in movimento e armonia con lo spazio circostante, magari anche con il pubblico che assiste alla performance. Una chiave innovativa che è alla base dell'edizione 2012 di Visione di Parte, il Festival Internazionale di Danza Contemporanea che animerà la città di Bari nei due weekend conclusivi di settembre e di cui Antenna Sud è media partner. Primo atto della rassegna, firmata dall'Associazione Culturale Qualibò, l'anteprima nei locali della Galleria Blue Org con la proiezione di una serie di elementi di videodanza e una performance terzi corea molto coinvolgente. Il tema del Festival quest'anno è più che altro la ricerca di un luogo altro rispetto al teatro in cui portare e sperimentare il linguaggio coreografico. Anche gli ospiti internazionali, abbiamo dal Sud Corea, Galizia, Spagna e Grecia, porteranno dei lavori che sono nati in spazi altri e sono creati apposta per il nostro festival. Quindi lavori che dal teatro vanno verso site specific, quindi gallerie, città, strade e viceversa, lavori che sono nati in urbana per arrivare a prodare al teatro. E dopo l'anteprima, via alle danze questa sera con un'animazione molto particolare in via Argiro, nel cuore del quartiere murattiano di Bari. Abiteremo tutta la strada e abbiamo sparso i danzatori, un po' nelle vetrine e un po' proprio all'interno, sui marciapiedi, sulla strada. E il pubblico sarà accompagnato in questo percorso attraverso queste performance, guardando alle volte in vetrina ciò che succede, altre volte facendosi travolgere dalla danza, per poi arrivare alla chiusura con un concerto del quartetto Les Cargots.